Presso il rifugio Colma di Concesio si svolgerà sabato 20 e domenica 21 maggio la tradizionale festa della Colma che quest'anno coincide anche con il quarantesimo anniversario della posa della croce in Colma. Il programma prevede per sabato 20 maggio alle ore 19 lo stand gastronomico con pane e salamina. Alle 20 e 30 il concerto a cura del gruppo Starlight Duo Voci in Colma. Domenica 21 maggio alle 10 e 45 ci sarà la partenza dal rifugio in Colma verso la croce per la disposizione della corona. Alle 11 la celebrazione della Santa Messa in memoria degli alpini caduti. Alle 12 e 45 il ritrovo è fissato ancora al rifugio per il pranzo.